La Mantea è riuscita a riacciuffare il pareggio con una buona cattiveria, quella che forse mancava da un po' di tempo, la giusta cattiveria, la giusta voglia, la fame di vincere, di fare una grande prestazione, poi l'espulsione e poi mister. Diciamo che nella prima parte di gara c'è stato tutto quello che non dovrebbe esserci, quello che non dovrebbe fare una squadra per salvarsi, detto questo la squadra ha fatto una partita straordinaria, straordinaria non per qualità di gioco perché per qualità di gioco tutt'altro, ha fatto una partita straordinaria perché andare sotto dopo 40 secondi, rimanere subito in 10 per una follia di un nostro giocatore può voler dire compromettere una stagione intera, un anno di lavoro. Invece i ragazzi hanno sofferto, si sono ricombattati, sono prevenuti al pareggio, sono andati di nuovo in svantaggio e hanno ribaltato una partita che è una partita che viene dal cuore secondo me dove hanno messo tutto, 80 minuti giocare in 10 contro 11, non è facile ribartare due volte il risultato, lo è ancora più difficile, quindi complimenti ai miei ragazzi e ci prepareremo per la prossima. Insomma tre punti veramente importanti che danno un respiro e diciamo riducono un po' il gap che c'è con le dirette concorrenti per uscire da questi play out, un primo passo è fatto. Adesso cosa chiederà la squadra in questo momento? Chiederò di continuare così, era troppo che mancava la vittoria, mancavano i tre punti, averli ottenuti in questo modo vuol dire un segnale chiaro che la squadra c'è, che pur soffrendo ha ancora voglia di combattere e sarà così, sarà così fino alla fine dell'anno. Ci sono quelle 7-8 squadre che ci saremo dentro fino alla fine e noi siamo pronti a dire la nostra. È iniziata sotto veramente la buona stella e c'erano tutti i presupposti per far bene e portare a casa questi tre punti. Un gol in apertura, veramente una doccia fredda per la Mantea, l'espulsione di Gentile al tredicesimo e poi mister che cosa è successo? Oh niente, c'è stato un paio di sostituzioni ma la partita sostanzialmente è rimasta sempre la stessa. Noi nella metà campo avversaria abbiamo dominato territorialmente, loro giustamente in dieci si sono difesi bene poi hanno fatto i cambi giusti, quelli che dovevano fare, sono ripartiti un paio di volte i gol sono nati da palle inattive, rimesse laterali ma rimane una delusione enorme perché due volte siamo passati in vantaggio quindi secondo me c'è qualche problemino caratteriale, bisogna lavorare anche sotto questo aspetto perché la squadra che ho avuto è un treno che ho preso in corsa stiamo lavorando tanto atleticamente, tatticamente però ci sono alcune debolezze a livello comportamentale, attentivo soprattutto che sono difficilmente migliorabili comunque continueremo a lavorare, a onorare l'impegno fino alla fine secondo me meritavamo noi di vincere a parte il fatto che erano in dieci loro ma già dall'inizio abbiamo preso noi il pallino in mano abbiamo giocato prevalentemente nella metà campo vostra poi i ragazzi vostri per esempio a livello comportamentale erano più maturi è un attore è un attore è un attore